Chiedo per caso, siccome l'altra volta dal balcone avevano abolito la povertà, chiedo per caso Di Maio è già uscito sul balcone per dire che hanno abolito i Benetton, Atlantia eccetera eccetera eccetera, i balconi sono pieni di M5S, di Guerlini che hanno abolito tutto, no chiedo per un amico, chiedo così, chiedo se per caso dal balcone sono già usciti con risultanza, grazie, non li vedo, chiedo grazie.